Ultime ore di mercato per il Pescara in attesa dello stop ufficiale delle 23. Biancazzurri a caccia del colpo finale per puntellare l'attacco. Al di là dei nomi circolati negli ultimi giorni, l'idea di queste ore è quella di Antonio Cassano della Sampdoria. Una butade di quelle che riempiono gli ultimi istanti di calciomercato o qualcosa di concreto? Le dinamiche del pomeriggio lo riveleranno. Certo, il nome di quelli che fanno sognare, perché il talento del giocatore di Barivecchia, anche a 34 anni, è indiscutibile. Starebbe a Oddo cercare di gestirne il carattere esuberante. Di certo Cassano non rientra nei piani della Sampdoria, diverse squadre si sono interessate. Tra queste lo Spezia, ma il funambolo barese ha declinato. I nomi già sul tavolo del presidente Sebastiani e il DS Leone sono quelli di Pietro Iemmello, Gonzalo Bergessio e Bruno Petkovic. Oddo gradirebbe particolarmente Bergessio per struttura fisica e per esperienza nella massima serie. L'argentino ha risolto il contratto con i messicani dell'Atlas Guadalajara, ma bisogna trovare la quadra per l'ingaggio. Visto che con la precedente squadra guadagnava ben oltre il milione di euro e dovrebbe abbassare e di tanto le pretese. Su Bergessio si è fiondato anche il Palermo. Il club di Zamparini marca anche Pietro Iemmello, la cui situazione è particolare. Ha firmato con il Sassuolo con la promessa di tornare in prestito allo Spezia, ma poi l'attaccante, già noto in Abruzzo per il dietro front di Lanciano 12 mesi fa, non è rientrato in Liguria, forte dell'interessamento del Pescara e non solo. Giocatore in ascesa che per la A sarebbe una scommessa ma con un costo più accessibile. Il Delfino continua a tenere d'occhio anche Bruno Petkovic, l'attaccante croato riscattato a giugno dal Trapani, e il giocatore più intrigante di questo terzetto a livello di talento, gran fisico ma anche tecnica raffinata. Petkovic ha assaggiato la A debuttando col Catania nel 2013. Il Trapani spinge per una cessione a titolo definitivo per 2 milioni di euro, mentre il Pescara lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Sul fronte delle uscite è ufficiale. Il portiere Simone Aresti ha firmato un contratto annuale con la Ternana, in uscita anche il mediano Ransford Selasi vicino al Novara.